Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Ballando con le stelle. Tra il trionfo di Bianca Guaccero e le polemiche di Selvaggia Lucarelli, il vero spettacolo si è consumato dietro le quinte. Durante la diretta, alcuni buontemponi travestiti da cugini di campagna hanno seminato il panico nell'auditorium. Ciò che sembrava una gag innocente ha rischiato di trasformarsi in un'emergenza seria. Selvaggia Lucarelli ha documentato l'accaduto sulle sue storie Instagram. Durante la puntata di ieri sera, mentre tutto sembrava procedere normalmente davanti alle telecamere, dietro le quinte si è verificato un episodio inquietante. Un gruppo di ignoti travestiti da cugini di campagna ha introdotto valigie sospette nell'auditorium, scatenando l'allarme rosso. Dopo momenti di panico, l'intervento delle forze dell'ordine ha riportato la situazione alla normalità. Il giornalista Domenico Marocchi ha svelato che le valigie contenevano solo parrucche, zeppe e paigliettes utili per impersonare i cugini di campagna. Gli impersonatori sono riusciti a introdursi nell'edificio senza destare sospetti, mentre il gruppo si esibiva sul palco all'oscuro dell'accaduto. Millie Carlucci potrebbe fornire ulteriori dettagli durante la prossima puntata. Resta il mistero su come gli intrusi siano riusciti a infiltrarsi, lasciando spazio a domande e speculazioni. Il caos dietro le quinte ha aggiunto un'inaspettata dose di suspense alla serata di Ballando con le stelle, rendendo l'evento ancora più avviso.